La VL riparte da Meo Sacchetti Ancora Cantieri a Pesaro, si riqualifica anche il Palazzo del Genio Civile Ultimo meglio per l'Interquartieri di Muraglia, fine dei lavori a marzo Le Marchi in vetrina nel villaggio del Festival di Sanremo Tavuglia scalda i motori con il weekend della 100 km dei campioni Buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione serale di Rossini News Vediamo gli argomenti di questo giovedì 11 di gennaio E apriamo eccezionalmente con lo sport e con le immagini girate davvero poche ore fa All'hotel Baia Flaminia di Pesaro dove c'è stata la presentazione del nuovo allenatore della VL Nuova guida tecnica della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Si tratta di Romeo Sacchetti presentato all'indomani dell'esonero di Maurizio Buscaglia Formalizzato proprio nella giornata di ieri Innanzitutto è una squadra che quando arrivano i problemi la prima cosa da togliere è togliere la paura Perché la paura di sbagliare è quello che fa sbagliare più di tutti Ogni tanto ci dimentichiamo che la pallacanestra è un gioco ed è un divertimento E' logico che a questi livelli ci sono troppi interessi e pressioni Però se si ritorna a vedere la pallacanestra con un gioco e di tutto è una cosa positiva Non si può giocare la pallacanestra con la paura Punterò di far giocare meglio i giocatori che ho perché penso che possano dare qualcosa di più E poi vediamo un pochettino come sta Benford e ci stiamo cercando di vedere con la società un altro giocatore che possa dare una mano Sicuramente certe volte queste cose qui danno anche più stimolo Poi voglio dire io non è che abbia mai allenato squadre di altissimo livello Ho sempre allenato squadre medio livello E' logico che Pesaro è una squadra di livello per il suo passato che ha avuto di Scudetti Però gli Scudetti mi portano anche cose tristi di Pesaro Però voglio dire quando una società così dura nel tempo attraverso sia Scudetti, Vittori e anche Brutti Perieri Vuol dire che c'è passione Dove c'è passione bisogna trasportarla anche ai giocatori Mi porta la voglia di allenare, sicuramente il rapporto con Ario sappiamo benissimo Lui sa benissimo che tipo di allenatore che io sono Il mio comportamento con i giocatori probabilmente serviva un qualcosa che lui ha visto in positivo in me Speriamo che poi i risultati lo diano Spero che le città di mare mi portino quello che mi hanno dato alle altre città di mare Tipo Capodorlando, Sassari non è sul mare ma io stavo da Alghero Perciò voglio dire qualcosa di buono il mare me l'ha trasmesso Lasciamo lo sport e parliamo di lavori pubblici perché continuano a moltiplicarsi i cantieri a ridosso del centro storico di Pesaro L'ultimo riguarda un intervento a carico della Regione Marche sul Palazzo del Genio Civile Sta per partire un altro cantiere di riqualificazione di un palazzo storico del centro di Pesaro La Regione Marche infatti investe sul miglioramento sismico di uno dei suoi palazzi Quello della sede del Genio Civile tra via Gramsci e via Le Buote Di fatto di fronte alla provincia di Pesaro Rubino e al liceo Mamiano Un investimento di 1.800.000 euro che oggi ha visto la firma sul via ai lavori Alla presenza dell'impresa costruttrice C'è 400 giorni di lavori con il coinvolgimento anche dei 72 dipendenti interni della struttura che verranno traslocati rimanendo in centro storico Vogliamo mettere in sicurezza i palazzi strategici del capoluogo di provincia Investimenti complessivi per 3.600.000 euro tra il palazzo della Soi i lavori della Soi che abbiamo già fatto partire Sono avviati proprio questa mattina, ho fatto un sopralluogo per vedere come stanno procedendo i lavori E oggi consegniamo i lavori invece per il palazzo del Genio Civile Un palazzo che aveva un indice di vulnerabilità sismico molto basso Quindi dobbiamo metterlo in sicurezza secondo i parametri di legge Un altro investimento da 1.800.000 euro Per la grande attenzione che vuol mettere la Giunta regionale, l'assessorato alle infrastrutture per questo capoluogo che poi da quest'anno è capitale italiana della cultura Pesaro non deve essere solo capitale italiana della cultura per il 2024 ma deve avere degli edifici sicuri a servizio del capoluogo e dell'intera provincia L'obiettivo è stato duplice, parte chiaramente dalla messa in sicurezza dell'edificio a livello sismico dal miglioramento poi energetico dell'edificio ma l'edificio è vincolato e noi abbiamo voluto investire anche sulla qualità dell'edificio è un pezzo di storia di Pesaro, è un edificio riconosciuto sempre come un centro importante perché era il luogo dei servizi pubblici quindi andiamo anche a recuperare la qualità architettonica in via Gramsci e in generale dell'edificio a livello sia esterno sia interno è un intervento che riporta una sicurezza diciamo sismica quindi un miglioramento sismico di questo edificio che è un edificio strategico quindi importante anche per le sue funzioni proprio di genio civile che passerà da un indice di 0,1 quindi di protezione sismica molto basso e arriveremo a un livello superiore allo 0,6 questo è un primo intervento verrà poi fatta successivamente una riqualificazione energetica e nel contempo tutti i dipendenti sono stati trasferiti nella struttura qui al centro di Pesaro in via Mazzolari anche questa è una struttura importante di una rivelanza architettonica e poi al termine dell'operazione di riqualificazione verranno riportati nella sede ufficiale i tempi di secuzione sono 400 giorni grazie anche alla riduzione dei tempi offerti in fase di gara da parte della ditta che è il Consorzio Romagnolo e Pesaro è davvero città-cantiere da avvio a un altro importante intervento volto a riqualificare i contenitori della capitale della cultura parliamo di Palazzo Olivieri, sede del Conservatorio Rossini infatti da domani in Piazza Olivieri è previsto l'allestimento delle cantiere che comporterà un restringimento della stessa piazza del centro storico per consentire l'installazione del ponteggio sul retro dell'edificio sarà chiuso al traffico veicolare l'accesso a via Giordani per chi proviene da via Zacconi un divieto che sarà valido per tutto il 2024 palazzi storici fra i ponteggi ma ruspe al lavoro anche sulle strade e a marzo dovrebbe finalmente vedere la luce l'interquartiere di Muraglia dopo un'altra limitazione al traffico cominciata in questi primi giorni di gennaio ultimi due mesi di disagi per i residenti di Muraglia e per i collegamenti fra lo stesso quartiere e la vicina zona celletta Santa Veneranda dallo scorso 3 gennaio è stata infatti nuovamente chiusa al traffico strada Carloni per un'interruzione che durerà fino al prossimo 29 febbraio un'altra chiusura dopo quella extra large di quattro mesi e mezzo è venuta a cavallo fra 2022 e 2023 per accelerare una delle più complesse opere stradali della città ovvero quella della circonvallazione di Muraglia che vedrà la luce in questo 2024 completando l'interquartiere sul suo lato sud e collegandosi a Via Lombroso dove sorgerà il nuovo ospedale pesarese la primavera vedrà poi spostarsi i cantieri di Amplia impresa costruttrice legata a società autostrade che proseguirà verso le altre opere compensative alla realizzazione della terza corsia già ad aprile infatti il cantiere si sposterà nella vicina Santa Veneranda per la realizzazione della Bretelli la zona di Santa Veneranda dove come ultimo intervento ci sarà quello del casello autostradale unidirezionale e restando in tema di cantieri sono ben 573 quelli con il super bonus 110% ancora aperti nelle marche nonostante la scadenza del 31 dicembre di questi ben 477 riguardano lavori nei condomini 70 quelli negli edifici unifamiliari cifre fornite da CNA Marche Costruzioni che ricorda come in ballo ci siano 188 milioni di euro che dal primo gennaio beneficiano della detrazione al 70 e non più al 110% una situazione molto preoccupante secondo l'associazione di categoria per il rischio di contenziosi la differenza andrà infatti pagata dai proprietari e dalle abitazioni che potrebbero portare in giudizio le imprese edili per dimostrare che la mancata conclusione dei lavori sia dovuta a ritardi nei completamenti dei cantieri le bellezze delle Marche avranno una importante vetrina promozionale al prossimo Festival di Sanremo grazie ad una operazione orchestrata dalla Camera di Commercio per la prima volta la Regione Marche è presente diciamo durante appunto il Festival di Sanremo che sappiamo essere un'occasione unica dove c'è tanta partecipazione di pubblico sia in presenza che ovviamente seguito a tutti i livelli quindi sia attraverso le televisioni che attraverso i canali social tra l'altro la Regione Marche sarà protagonista ovviamente insieme alla Regione Riguria perché è la Regione che ospita ma sarà l'unica Regione presente all'interno di questo villaggio del villaggio appunto del Festival dove ci saranno quindi cinque giornate che saranno dedicate alle cinque nostre province quindi dove ogni provincia avrà l'opportunità di presentarsi di far conoscere le proprie eccellenze sia culturali che gastronomiche comunque tutta la bellezza della nostra Regione e quindi siamo assolutamente favorevoli e abbiamo fortemente sostenuto questo progetto insieme ovviamente alla Camera di Commercio che è l'ente promotore e quindi abbiamo sposato subito questa opportunità Entriamo in un mondo nuovo di promozione del nostro territorio che non è fatto solo di fiere ma seguiremo il percorso iniziato con la BIT del 4-5-6 di febbraio continuando 5, 6, 7, 8, 9 e 10 febbraio al Villaggio Festival di Sanremo all'interno della Kermesse di Sanremo è un modo nuovo di presentare le marche e saremo la Regione in via esclusiva presente oltre la Liguria perciò dovremo essere bravi ecco perché abbiamo messo in campo anche il lanci con tutti quanti i comuni a dare la visibilità ai nostri territori Credo che sia il modo perfetto per essere sicuri che ci sia una rappresentazione autentica delle nostre marche i nostri comuni hanno voglia hanno bisogno di essere conosciuti nel contesto italiano e anche in quello europeo perché Sanremo è una vetrina oltre che italiana anche internazionale sicuramente poi c'è un'area interna della nostra Regione che è quella anche del sisma e non solo che ha particolarmente bisogno di essere raccontata e raccontata positivamente così come sta portando la ricostruzione cioè a una ripartenza veramente di territori che sono di uno splendore naturale veramente eccezionale Ed ora parliamo di servizi ad anziani in particolare a quelli non autosufficienti con un approfondimento del nostro Paolo Pagnini che ci porta a conoscenza di una struttura che si trova a Vallefoglia Amici amici di Rossini TV siamo a Vallefoglia siamo a Morciola di Vallefoglia al centro vetrine dove stiamo andando a scoprire uno spazio particolare uno spazio inedito si chiama L'Infinito è un centro di urno per adulti e per anziani andiamo a scoprirlo insieme noi siamo un centro di urno operiamo con soggetti fragili che sono gli anziani non autosufficienti inizialmente questo centro di urno qui era rivolto solamente ad anziani autosufficienti nel tempo siamo riusciti a rivolgerci anche a soggetti non autosufficienti perché ovviamente questi anziani qui hanno dei bisogni noi aiutiamo solamente le persone e lo facciamo con spirito umanitario ogni soggetto, ogni individuo va monitorato durante il giorno e noi rispondiamo ai bisogni che l'individuo ha aiutandolo in tutto a 360 gradi se volete vi posso fare tanti esempi facciamo le docce assistite somministriamo pasti somministriamo terapie perché abbiamo anche il servizio infermieristico vanno portati in bagno quando hanno bisogno di andare in bagno quindi noi stiamo completamente dietro a qualsiasi tipo di bisogno non siamo strutturati in una maniera tale di intervento nel momento in cui noi possiamo intervenire no, si interviene esclusivamente quando il soggetto ha bisogno e quindi richiede un intervento durante il giorno come siamo strutturati? lavoriamo ogni giorno dalla mattina alle 8, 8 e 30 fino alle 18 del pomeriggio fornendo anche servizio trasporto per chi ne ha la necessità quindi da lunedì alla domenica è il centro aperto anche durante i giorni festivi non manca nulla per quanto riguarda la giornata la giornata è scandita da attività ogni momento è affidato ai vostri operatori per cui non è una giornata di parcheggio non è una giornata nella quale si fa il nonno sitter per capirci ma è una giornata nella quale si riempie di attività la vita di queste persone che per qualche motivo hanno bisogno di avere un posto di aggregazione un altro elemento che ritengo importante da sottolineare è l'elemento aggregativo perché poi non stiamo parlando del singolo che viene e sta nella sua camera e sta da solo magari con un operatore stiamo parlando di tavolate comuni di persone che vivono insieme che fanno amicizia che si confrontano che magari un po' liticano che fanno tutto quello che vogliono ma in realtà in una parola vivono Sabato 13 gennaio torna la rassegna musicale playlist Pesaro organizzata da Comune e Amat primo appuntamento del 2024 e con Ruz, musica dalle radici un progetto in due tappe che comincia alle 18 alla chiesa dell'Annunziata con la macina quartet in nel canto La Memoria canti e tradizioni popolari della cultura orale marchigiana e poi al teatro sperimentale alle 21 ci sarà Daniela Pes e Massimo Silverio in collaborazione con Black Marmalad Records sarà una giornata imperdibile per tutti gli amanti della musica di qualità tra tradizione, avanguardia e ricerca dalla musica al teatro un nuovo appuntamento della stagione della piccola ribalta con una commedia brillante sabato 13 alle 21 e domenica 14 alle 17 nella sede di Via dell'Acquedotto la compagnia presenta The Show Mask On una commedia in due atti di Valerio Di Piramo per la regia di Alba Russo i big della moto si ritrovano a Tavuglia per la 100 km dei campioni un appuntamento che domani e sabato radunerà al ranch tavugliese tantissimi appassionati invitati via social dallo stesso Valentino Rossi Ciao ragazzi siamo al Motor Ranch e stiamo facendo gli ultimi preparativi per la 100 km dei campioni che sarà questo weekend soprattutto venerdì e sabato la gara sarà sabato tempo permettendo però le previsioni sono buone soprattutto per venerdì e sabato ci dovrebbe essere il sole quindi speriamo di correre sabato l'officina stiamo ancora lavorando c'è la Honda del Maro nuova e ci sono tutte le nostre moto tutte le moto dei ragazzi adesso un po' sono fuori qui c'è la moto del Bear che stanno lavorando qui ci sono i ragazzi che lavorano e via siamo pronti venerdì prove ufficiali è americana e sabato la 100 km dei campioni che partirà alle ore 2 e quindi comunque vi teniamo informati dai ciao e concludiamo il nostro telegiornale con un altro evento sportivo che arriverà a Pesaro a marzo per la prima volta si tratta della gara ciclistica Copi Bartoli che rappresenta un'ottima notizia come ricordato da Andrea Biancani consigliere regionale che ha caldeggiato questa assegnazione quest'anno a livello regionale ma soprattutto la città di Pesaro si è giudicata a un evento ciclistico importante che è di livello internazionale che è la Copi Bartoli la tappa a Pesaro sarà il 19 di marzo ci saranno 30 squadre che provengono a livello internazionale saranno centinaia sia i ciclisti ma soprattutto tutto lo staff che accompagna i ciclisti anche quelli che possono essere i parenti gli appassionati e si stimano oltre 600 persone che verranno nella città di Pesaro appunto per il 19 di marzo era un'iniziativa che fino allo scorso anno era stata fatta in Emilia Romagna quest'anno appunto grazie anche al contributo delle marche io ho presentato un emendamento che è stato approvato in occasione dell'ultimo bilancio che ha previsto 30 mila euro a favore della città di Pesaro appunto per raggiudicarsi questo evento risorse che comunque non sono i 30 mila euro a garantire questo evento ma una buona parte di queste risorse vengono messe a disposizione direttamente anche dal comune di Pesaro un evento internazionale che ci auguriamo possa essere fatto oltre a quest'anno anche i prossimi anni nel nostro territorio un'occasione per valorizzare innanzitutto tutto il lavoro fatto nel corso degli anni cioè legato alla Bicipoletana che ha fatto sì che i cittadini pesaresi abbiano preso l'abitudine di utilizzare la bicicletta negli spostamenti ma questo progetto della Bicipoletana che ha aumentato anche le persone che amano la bicicletta dal punto di vista sportivo quindi che fanno ciclismo che fanno cicloturismo avere iniziative come queste è sicuramente molto importante si conclude qui Rossini News ma continuano gli approfondimenti informativi sulla nostra emittente con la nostra prima serata che alle 21 e 20 vi porterà alla scoperta della nuova scuola primaria dedicata a Vittorio Giunta inaugurata proprio nei giorni scorsi a Tavuglia in strada del Piano una nuova struttura attesa d'anni da questa comunità che andremo a scoprire come detto questa sera alle 21 e 20 e poi vi aspetto domattina con l'informazione di Buongiorno Rossini la nostra segna stampa dei quotidiani locali come sempre in diretta dalle 7 e 20 si conclude qui invece Rossini News e vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento a domattina con Buongiorno Rossini nel frattempo vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi